bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono maullo 941 e oggi siamo in un nuovo episodio di minecraft signori prima di partire col video come al solito vi ringrazio per i like per i commenti per i giudici e per il supporto che è data alla serie e al canale vi ricordo di iscrivervi al canale così raggiungiamo il primo possibile i 2000 iscritti quale ram si sta sempre più trasformando che cosa carina mi piace troppo sto ram che si è ossidato completamente comunque che così raggiungiamo spero entro l'anno i 2000 iscritti sarebbe per me un grande obiettivo signori cosa facciamo allora dopo l'ultimo video in cui abbiamo portato i nostri bellissimi villageri qui dentro che li sentite che si lamentano non vi posso fare vedere assolutamente no perché sennò dovrei costruire cosa che non c'entrano niente e non ci interessa ho messo le basi per fare la struttura dove i nostri villageri andranno a vivere signori ebbene sì qui faremo il villaggio dei nostri villageri come lo faremo signori allora intanto metteremo tutta la terra sotto e già mi sono portato avanti con le dimensioni lo facciamo così poi vediamo un giorno se lo dovremo allargare lo allargheremo e ma queste saranno cose che vedremo successivamente io direi iniziamo a mettere tutta la terra così come se non ci fosse un domani in modo tale da che dire creare una sorta di zona zona verde ecco che mi piacerebbe che appunto loro stessero in una sorta di zona così tranquilla verde carina e coccolosa me lo fai mettere sto cazzola del blocco sì ci abbiamo fatto a dici è una palla questa situazione più o meno più o meno più o meno è una palla sì però lo lo possiamo fare e lo facciamo così praticamente mettiamo tutta questa zona di qua ovviamente non completeremo tutto quanto il villaggio oggi no signori perché diciamo che quello che ho in mente ci vuole un po di tempo perché oggi faremo un attimino diciamo la costruzione la costruzione base perché l'intento è appunto fare tutta tutta questa struttura di terra di terra si dopo di che tutto questo bordo che ho fatto di legno faremo tutto un bordo di vetro così praticamente il villaggio sarà a giorno potremo comunque vedere quello che succede all'interno io già ho finito 64 blocchi di terra ottimo e non abbiamo fatto ancora nulla di nulla bene e così potremo praticamente vedere quello che succede all'interno del villaggio e dopo di che una volta che avremo messo i blocchi di vetro tutto a giro faremo passare i villaggeri al loro interno al suo interno piazzerò intanto dei letti per come capita un po di lana dovremmo averci se non ricordo male nel prossimo video domani vedremo un attimino di fare le casette in modo tale che loro saranno pronti per dormire e gli daremo anche le cose da mangiare così in teoria potranno anche riprodursi e il villaggio prenderà vita vita significa anche iron golem iron golem significa anche ferro come se non ci fossero domani quindi signori il progetto è ambizioso il progetto è bello grosso ciccioso ma noi lo porteremo a casa noi abbiamo un blocchettino di terra che con l'erba che sfrutteremo da mettere qui così tutta l'erba si espanderà e qui riusciremo ad avere terra ovunque è anche vero che poi è anche vero che poi in alcuni punti costruiremo le case quindi questa terra la leveremo però chi se ne frega non interessa che intanto sia tutto bello così unico e uniforme carino e coccoloso io nel frattempo sto cucinando il vetro sto cucinando la sabbia per avere il vetro per poter fare tutta la recinzione che sarà alta 3 penso che 3 dovrebbe bastarmi se poi dovessimo avere blocchi in in esubero potremmo anche farla di 4 intanto io spero che la terra mi basti perché se non mi basta la terra mi sparo e mi posso già posso già caricare la pistola perché no forse forse ce la facciamo signori forse 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 ce la facciamo per questa volta rimango in vita per questa volta rimango in vita ce l'abbiamo fatta a pelo signori sono resti solo 6 blocchi di terra però l'importante è che ce l'abbiamo fatta qua ne ho avuto 6 ok detto questo noi abbiamo 64 più altrimenti i blocchi qui ma a casa se non ricordo male stanno cucinando gli altri blocchi qui dobbiamo allargare anche con la con la con la caccia in quel punto della piazza se no praticamente rischiamo di cascate sotto male allora ok qui stiamo cucinando con la lava signori perché la farm di lava funziona e quindi riusciamo a cuocere con la lava allora capiamo un attimino i nostri villager sono bloccati qua dentro è giusto sì quindi direi che questa parte di qua per ora la lasciamo un attimino in tonso giusto perché qua li faremo passare di qua qua invece possiamo chiudere quindi iniziamo a fare tutto un giro di vetro quantomeno due iniziamo a fare due per tutto quanto perché con due già loro non possono non possono scappare non possono scappare e così già sarebbero belli e bloccati qua dentro già questo potrebbe essere un buon risultato se riuscissimo a fare tutto il giro ricordiamo che non abbiamo un piccone con silk touch quindi cerchiamo di non fare cagate e cerchiamo di mettere il vetro giusto domani signori potremmo tranquillamente espandere questa questo questa questo 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 villaggio diciamo vediamo a secondo quanti quanti villageri riusciamo a cazzarola già uno stack se n'è andato così quanti villageri riusciamo ad organizzare e piano piano ci potremmo anche espandere la seconda diciamo di di quello che c'è tanto fondamentalmente a noi l'unico villageri reale che ci interessa è quello che c'è al minding signori che non andremo a cercare oggi sinceramente no lo andremo a cercare magari domani o nei prossimi video allora io direi qui qui dobbiamo poi inventarci una sorta di passaggio signori dobbiamo inventarci una sorta di passaggio per riuscire ad entrare dentro ok il nostro bellissimo villagerista ce l'abbiamo ce l'abbiamo andiamo a regolare l'altro vetro tanto devo solamente fare un giro in più in modo tale che saliamo di 3 e poi vediamo poi vediamo signori se dobbiamo continuare a salire ancora di più mi bastano 31 non penso 31 non penso mi bastino però intanto andiamo a piazzare questi 31 potremmo anche farlo poi alto 4 così anche per avere un discorso di casa dell'altezza delle case ma questo poi valuteremo tutto in seguito signori intanto piazziamo questi blocchi qui mettilo facciamo tutto alto 3 spostiamo i apriamo facciamo il passaggio in modo tale che villageri possano passare da questo lato piazziamo gli due lettini a come capita in modo tale che possano andare a dormire e poi piano piano vediamo nel prossimo video che nel frattempo io off camera ecco mi sono finiti i blocchetti ma ma porca miseria mi manca giusto giusto un giro di vetro ce l'avremo mi sa che non ce la facciamo ha fatto tutto il giro di vetro dovrò fare un taglio per andare a regolare l'altra sabbia ora vedi come devo andare a regolare l'altra sabbia qua ce ne sono solamente 6 19 forse ce la faccio dai 20 25 blocchi forse dovrei farci ma devo aspettare che cuoce tutto il legno tutto il vetro signori quindi breve taglio no breve taglio no mentre li sta cuocendo blocco di corso facciamo i letti blocco di lana mi manca una lana vabbè li posso dare lettino mio e dormono e dormono in questo gli cedo volentieri il mio letto gli cedo volentieri il mio letto allora uno e due no detto che un letto io lo cedo io quindi mi servono solamente uno perfetto ta 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 recuperiamo del colorante che colori abbiamo non abbiamo colori non ci credo non ci credono mai la vita non abbiamo colori ma stiamo scherzando non abbiamo colori perfetto ok dobbiamo recuperare dei colori non mi vado a metterli letti bianchi tipo ospedale signori qua se non sbaglio dovrebbero esserci dei fiorellini meri a una pecorella dove sono le pecorelle ok la c'è un fiorellino e la c'è una pecora ok siamo riusciti a ottenere ciò che ci serviva allora la pecora sta di qua te pecora sarà immolata per una giusta causa ok e il fiorellino l'avevo pure visto ho visto un fiorellino giallo no ho visto uno scheletro ho visto uno scheletro aia bastardo io ti aspetto da quel lato e tu mi attacchi di qua maledetto 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 signori alla ricerca del fiorellino no qui siamo tornati sulla pallota ma porca miseria avevo visto un fiorellino giallo e poi uno non ci faccio niente me ne servono due o due letti sapete com'è o due letti mi servono due fiorellini da c'è un creeper stiamoci lontano alla ricerca del fiorellino perso signori si sono fottuti tutti i fiori che cazzo le stavano di si sono fregati tutti i fiori perfetto niente va bene vado per questi celesti ci stanno solo questi celesti praticamente qui recuperiamo questi fiorellini celesti e niente da fare o celeste o niente praticamente o ti mangi questa minestra o ti butti dalla finestra perfetto e noi ci mangiamo la minestra signori non abbiamo voglia di buttarci fuori da nessuna finestra quindi ci mangiamo la minestra là c'è un altro celeste ci sono solo celesti praticamente va bene ora magicamente torno verso casa che non sto cercando più nessun fiorellino troverò i fiorellini ora voi vedete no trovo un ragno che ci stiamo lontano non c'ho voglia di combattere signori minimamente voglio semplicemente andarmene a casa velocemente ho chiesto grazie ok veloce 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 ho beccato l'unica parte in cui non abbiamo l'acqua si va bene non abbiamo il sentiero va bene però ce l'abbiamo fatta sentiero di qua sentiero di qua di qua tagliamo ok dai 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 così dai così dai così perfetto perché poi a questo punto il fiorellino celesti ce l'avevo due passi da casa va bene sono andato in culo al mondo per prendere dei fiorellini va bene va bene non fa niente non fa niente allora qui quanto avete abbiamo fatto ok qui abbiamo fatto tutto quanto il vetro facciamo il facciamo l'altro letto facciamo i due coloranti ok mettiamo uno qui e ci abbiamo il letto celeste e l'altro qui e ci abbiamo anche l'altro letto celeste sono come quello mio sì però ce ne sbattiamo altamente qua facciamo il letto bianco che è quello mio che mi porta sempre dietro perfetto andiamo a piazzare questi letti all'interno della zona x allora intanto risaliamo di qua ok risaliamo di qua risaliamo di qua risaliamo di qua speriamo che questi 25 mi bastino perché non c'ho voglia andar pescare pure altra sabbia dai così dai 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 13 12 11 6 6 ok ci sono bastati ci sono bastati perfetto qui allora intanto dobbiamo leva questo blocco di terra di qui ok facciamo una cosa del genere che per ora è abbastanza brutta lo capisco ok mi serve per il passaggio dei villageri ok oppure finito la terra perfetto piazziamo i due letti mettiamo uno qui e l'altro lo mettiamo qui mettiamo anche una torcia in più qui perché mo è troppo buio e villageri qui da soli mi sinceramente la cosa mi fa abbastanza paura leviamo questa torcia di qua la torcia questa lanterna la mettiamo qui signori mettiamo un po' di pietra qui a chiusura ok e questa qua ve l'ho rotto le scatole dobbiamo levarla di nuovo non ci stai qui mettiti qui per il momento ti metti qui qua mettiamo un altro così noi possiamo intanto entrare controllarli loro in teoria non possono muoversi ok distruggiamo questa zona di qua ok loro dovrebbero poter passare e andarsi a coricare signori perfetto che bravi bambini mamma mia l'ho visto sparito ho detto dove cazzo non è finito quello la ok ricostruiamo qua il muro ricostruiamo questo e ricostruiamo questo signori detto questo io vi ringrazio aver guardato questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti e per il supporto aspettate che facciamo la copertina con i villageri che dormono perfetto signori ce li abbiamo ce li abbiamo si stanno facendo una bella pennichella e noi siamo contenti di questo detto questo signori vi ringrazio aver guardato questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento bella raga ciao